Oggi 11 febbraio presso il tribunale di Salerno è fissata la prima udienza d'appello che vede il presidente della fondazione Angelo Vassallo, Dario Vassallo, imputato per una querela presentata nei suoi confronti dall'ex maresciallo dei carabinieri della stazione di Pollica Costabile Mafia che ebbe l'ardire di querelare il presidente insieme ai suoi sottoposti una caserma intera due giorni dopo l'uccisione di Angelo Vassallo, il sindaco pescatore di Pollica Sono 11 anni che combatto per cercare di conoscere la verità di quello scuro delitto e non mi fermerò mai finché non saranno scritte pagine inequivocabili di verità In primo grado presso il tribunale di Vallo della Lucania sono stato condannato a sei mesi di reclusione continua Vassallo Abbiamo dato a questo paese la parte migliore della nostra famiglia Angelo Poi ho dedicato dieci lunghi anni della mia vita per cercare la verità e la giustizia non solo per me ma per milioni di italiani L'azione di Costabile Mafia, conclude Dario Vassallo Penso che sia un'offesa non solo all'arma dei carabinieri ma a tutta la società civile Confido ora che la giustizia chiarisca anche questa posizione sono fiducioso e credo nel lavoro dei magistrati del tribunale di Salerno Con serenità affronterò anche questo processo